De Negri, conferenza stampa di presentazione del team Vini Fantini Nippo De Rosa, una delle punte hanno detto in questo team sei proprio tu che hai vinto l'anno scorso in Giappone e avevi vinto anche il Matteotti che è uno dei tornei più importanti nel ciclismo. Sì, sono legato a questa squadra per due motivi, uno per il Matteotti con lo sponsor bruzzese Vini Fantini e l'altro per la vittoria in Giappone con lo sponsor Nippo. Per me è una nuova sfida, un progetto con basi salde di cui sono fiero di averlo sposato e spero che l'anno prossimo sia un anno del rilancio e di fare bene. Questo è un team che punta tanto anche sui giovani, i giovani e poi i ragazzi di esperienza come te per far bene magari non a partire da subito ma come lancio per il futuro. Sì certo, ci sono ragazzi giovani che sono passati professionisti quest'anno che hanno molto da imparare, io qualcosa ho imparato dai vecchi negli anni passati e qualche anno che sono professionista spero di poter insegnare a loro quello che anni prima hanno insegnato a me e altri corridori. Oggi sembra come se è la prima volta che parlo di ciclismo perciò mi sono emozionato ancora e finché mi emoziono così continuare a fare questo lavoro.